La statua di Paolina Bonaparte, quella nuda, del canone. Oh sì, sì, quella è una meraviglia! Ecco, lì, è tutta la mia parola. Un gradito ritorno, ritornate a calcare il palco della BCC Arena, immagino che vi faccia piacere. Buonasera, sì, ci fa tanto piacere. Noi siamo la sciabica di Marzocca, una compagnia teatrale amatoriale che si occupa di teatro dialettale. Quest'anno porteremo in scena una commedia veramente graziosa, ma veramente. Si tratta di una commedia che parla delle pillole della felicità. Le pillole della felicità sono quelle pilloline colorate, i maschietti prendono qualche volta per un aiutino. In questa commedia queste pillole creeranno uno scompiglio, perché ci saranno degli equivoci, delle scene abbastanza, forse un pochino osè, veramente graziosa. Io vi invito a venire, tutti quanti lunedì prossimo, a farvi un paio di risate all'Arena di Fano. Anche tre risate noi facciamo. Lui è l'americano, eh? Io faccio la parte dell'americano, ma non so inglese, non capisco niente da inglese. Mi hanno messo in bocca delle parole che vengono fuori proprio, non so come. Chi le capisce è bravo, chi non le capisce praticamente, poi le dico in italiano, perciò deve capirle per forza. In dialetto vostro come si può dire questa cosa qua? È struppiate proprio le parole, parole struppiate. Struppiate, direi che è l'espressione migliore. Vuoi sapere perché i quadri tuoi non si vede? Perché te sei vivo. Tu, Dio Dio Dio. Grazie.